Chi siete? Sono il sostituto procuratore immacolato da Taranni A mio avviso lei dovrebbe addolcirsi un po' Pubblico Ministero Tataranni non sa neanche cos'è la moderazione Me la vuole insegnare lei la moderazione, avvocato? Mi scusi, eh? La Tataranni era famosa per una cosa Non passava mai la versione Ma mi stai chiedendo una raccomandazione? Guarda, faccio finta di non aver sentito, eh? Mamma, non mi droga, è un porta a caramelle Hai paura che mi faccia di mentine? Troppe, fanno male pure quelle Lì nessuno si fida, eh? Quando si mette una cosa in capa, quella è Più che altro, come vestiti, in quel modo Qua forse c'è stato un omicidio Quando arriva mia moglie il lito delle sirene diventa il brox Da queste parti non si è mai visto un serial killer? Credo che le affiderò una scorta annata La ringrazio già mia suocera Qui dobbiamo essere tutti come una grande famiglia Un ambito dove c'è il più alto tasso di omicidi Come risponde lei a chi la chiama lo sceriffo di Matera? Stanno progettando qualcosa che contribuirà a distruggere ancora di più La nostra terra Io ho il dovere di metterla in guardia Non è il suo interesse per stare ai piedi sensibili I grandi mettono i loro obiettivi davanti a chiunque Siamo tutti con voi, dottoressa Io lo so che sotto sotto sei tanto buona E che bisogna arrivarci là sotto Comunque è ora di finirla con questa storia che ha un brutto carattere, eh? Io ho carattere e basta E che cavolo Un saluto agli amici del Corriere dello Sport.it E bentornati sul nostro schermo Allora il 22 settembre, domenica prossima Comincerà su Rai 1 una serie tv Una serie tv in sei serate Si chiama Im Tatarani A presentarla qui oggi ci sono i due Due dei protagonisti della serie Ovverosia Vanessa Scalera Benvenuta Vanessa E Alessio Lapice Bentornato Alessio in questo caso Allora Vanessa tu interpreti Im Diciamo la protagonista assoluta della serie Ovviamente Allora partirei per raccontare il personaggio Ricordiamo tra l'altro la serie alla regia di Francesco Amato Ed è tratta, liberamente tratta Dai romanzi di Mariolina Venezia Allora per raccontare il personaggio Partirei da una frase che dice proprio la Venezia Per raccontare un po' il personaggio Ovvero sia due categorie non sopportava Im La gente senza personalità E quelli che ne avevano una differente dalla sua Sei d'accordo con questo ritratto di Im Beh sì È un'intemperante È testarda Tollera soltanto Caro Giuri che È il personaggio che interpreta È il marito E il personaggio che interpreta Alessio è suo marito Che è Massimiliano Gallo Poi per il resto farebbe piazza pulita di tutto Raccontiamo un po' chi è Im Però la Im È un sostituto procuratore della Repubblica Vive e opera a Matera È una famiglia classica È una donna che comunque nel lavoro ha molto successo È in gamba Però ha una figlia adolescente Ha tutti i problemi che una donna comune ha È un marito Che la soddisfa totalmente È una madre un po' bizzarra Anziano ormai È una suocera che non sopporta E quindi diciamo Si ritrova a dover risolvere Sì, sono sei casi Proprio un crime Con un tono però allegro Da commedia Senti, questo Insomma Ha spiccare in Im Il suo carattere Giusto? Che è un carattere È incorruttibile Odia i privilegiati È una persona molto dura Molto tosta Per questo diciamo Ha anche Dei colleghi che non la sopportano Proprio tantissimo Diciamo a parte A parte che hanno aggiunto Esatto Però è una persona che alla fine Va dritta al punto Risolve i problemi Non sa sentire tanto Non si perde molto in chiacchiere Ne servirebbero un po' di più Di personaggi come Imma In Italia Sì, assolutamente sì Senti, tra le curiosi abitudini di Imma C'è anche quella di non andare Cioè di non convocare Gli imputati in procura Ma ci va direttamente lei Che è un po' Una caratteristica un po' particolare Perché insomma Solitamente avviene Il contrario, no? Sì, no Nella realtà Non può accadere Ok Il sistema giudiziario Non prevede questo È ovvio La penna di una scrittrice Va oltre Quindi ha inventato Questa cosa Anche per Far uscire fuori Imma Farle scoprire Anche il mondo circostante Grazie al fatto che lei Va nei luoghi Proprio che abbiamo incontrato Posti meravigliosi Abbiamo girato non solo a Matera Siamo stati in tanti luoghi In Basilicata E Quella è la sua piccola caratteristica Ne ha tantissima questa La memoria E in più Insomma Allora invece Passaggia tanto Allora invece Alessio Allora caro Alessio Noi ti avevamo lasciato Sporco di fango Immerso Nella melma Insomma senza potersi fare la doccia Un casino per il primo re di Romolo Giusto Sì Ti ritroviamo Pulitissimo Contrario Molto timido È una persona per bene Diciamo Che è l'assistente Appunto di Imma Giusto Sì Assistente Ti posso chiamare assistente 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 Diciamo il soldatino semplice Che insegue lei ovunque Con dei ritmi totalmente diversi dai suoi Cioè lei è un atleta Fatto 300 km orari ovunque Su questi tacchi Che La vedi salire sulle montagne C'è dello sportivo Tra l'altro in questo suo percorso E no Sì totalmente diverso Forse di doccia ne fa tantissima Perché è impeccabile Sempre con una polo perfetta Con il suo tacquino Vuole a tutti i costi Sembrare bravissimo Ai suoi occhi Prendere Avere la sua fiducia E poi ovviamente È molto affascinato Dalla sua persona Dal suo carattere Lei rappresenta per me Un po' Un supereroe Dei nostri tempi Cioè È quella persona Che la vedo Mettere questo costume E diventare Una Lo so Una kill bill Una Qualcosa del genere E io le sto dietro Le sto dietro Con i miei tempi Di No è bella questa metafora Non ci avevo mai pensato È un po' La kill bill di Matera Sì È la kill bill di Matera Invece Imma Ammira molto Il suo silenzio Giusto? Il silenzio del suo Del suo assistente O no? Sì Cioè il fatto che lui Non si perda molto in chiacchiere Sia una persona abbastanza simile Sotto certi punti di vista Forse rivede se stessa da giovane La fatica che ha fatto Per arrivare Dove è arrivata Oltre Non voglio svelare nulla Ad avere sicuramente Un'attrazione sessuale Sopita Ma C'è dell'altro È profondamente attratta Da lui E dal suo carattere Nonostante il marito Poi lo vorrebbe instradare Perché capisce E percepisce Che è un uomo di talento Che potrebbe fare Delle grandi cose Che lo giuri Ma spiegami una cosa Però Imma è A casa con il marito Cioè No Imma ha una vita Sentimentale e sessuale Vivissima Vivissima Straordinaria Ma questo Non le vieta Di trovare attrazione Per un altro uomo Non ci mancherebbe Assolutamente Senti invece A sorprendere E anche il tuo look Perché tu insomma Nella serie Ti sei dovuta Cambiare completamente No? Sì Hai questi capelli Completamente differenti Immagino Tutte le mattine Sedute Come è funzionato Insomma Per cambiarti E per trasformarti È stato faticoso? Era lunga Sì Ho dovuto fare Permanenti Colori Decolorazioni Insomma Ho rovinato un po' I capelli Però Ne è valsa la pena Un casco di banana Rosso Diciamo che ne valsa la pena Dai I capotti rosa Oddio Sì Poi la mattina Ci incontravamo Lei arrivava Il capotto rosa In macchina Ciao Buongiorno No la faccia di Alessio Era strepitosa Perché mi guardava Interdetto Aveva proprio negli occhi Diceva Ma che le hanno messo Stavolta Ogni giorno era una sorpresa Ma non l'ho mai detto No però La faccia parlava Perché no L'abbiamo detta questa cosa Perché ma Manca andare in giro Con vestiti sgargianti Insomma Con i tacchi Tacchi Zebrati Leopardati Accostamenti Assurdi Ma un copaleno di colori Di colori proprio Che tu solitamente Non porti Insomma Beh no Sei un po' più sotto Nella vita normale Diciamo Senti Raccontami anche Questo primo Meraviglioso Chuck Perché ho letto Questo aneddoto Fantastico Insomma Primo Chuck Primo giorno di riprese E tu ti sei ritrovata In acqua Era una cosa Dovevi stare a mollo Diciamo Su questo materassino Non ho capito bene Canotto Materassino Aveva fatto molto caldo Il giorno precedente A Metaponte Giusto? A Metaponte A Metaponte Tu ti ritrovi Aveva fatto molto caldo Cominciano le riprese Invece Giornata ventosa Ti ritrovi In acqua In mezzo alle meduse Giusto? Sì sì no La temperatura era scesa Proprio C'erano alle 8 del mattino 10 gradi Ok E mi sono messa in costume Mi sono tuffata In mezzo alle meduse E poi c'era il bagnino Che in un dialetto Che io non comprendevo Continuava Con la barchetta A darmi cicchettini Di vodka E io ero Completamente ubriaca Alla fine Però Nonostante questo Sono diventata viola Esatto E hanno deciso La produzione Anche ha deciso Di interrompere Le riprese Perché non potevamo Più andare avanti Non riuscivo a parlare Perché appunto Poi il fatto era quello O si perdeva la protagonista La prima giornata di riprese Non era il caso Oppure era meglio Cambiare qualche cosa Cambiare qualcosa Per evitare E poi abbiamo girato Un'altra scena Ok Benissimo Sì mi sono messa a letto Con mio marito Con Massimiliano Gallo Che non conoscevo bene Sono passata Da una scena intima Subito Benissimo Insomma è stato molto facile Ti hanno messo subito la prova